Buon Dì ragazzi, buon Dì, mancano quattro giorni a Natale ragazzi, ma come dico sempre ragazzi, il Natale è quando si ha un po' di gioia nel cuore, quante persone in questo periodo avranno perso qualche caro, avranno problemi enormi economici o tante altre cose varie e quindi a volte altro che Natale ragazzi, Natale non è per tutti, quello è il Natale del calendario e giustamente non si può essere felici a comando, quindi non dimentichiamoci mai che il Natale è quando ci svegliamo ogni mattina e abbiamo un po' di serenità e di oggi è nel cuore, poi il resto è prassi da vivere e quindi siamo qua, ci godiamo, per me oggi è Natale, che sono qua dinanzi al mare, oggi abito peraltro molto lontano e quando lo vedo credetemi ho il Natale nel cuore, quando lo vedo ho il Natale nel cuore veramente, me vi auguro buona vita a tutti e io mi godo questo bellissimo blu che ho dietro, ciao ragazzi, buon blu! bello! 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 Grazie. Ragazzi, c'è una giornata davvero spettacolo ragazzi, ma quale dicembre, sembriamo fine primavera, inizio estate, incredibile davvero, che spettacolo, che spettacolo, la Sicilia ragazzi, la Sicilia, venite, venite a visitarla. Grazie a tutti. 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 per la permanenza che sono stati in acqua ci può stare ci può stare grazie